No, Crystal Hands, poi in mezzo ai due c'è il numero 5 Steffi di Costa, si va così sulla piegata con Sno Crystal Hands che assume il comando delle operazioni nei confronti di Samsara, quindi il numero 6 solo millo a precedere l'uno supermannasco. 400 di gara in 29,5 da parte del leader che pur rimanendo un po' largo si mantiene in evidenza mentre viene via Solomillo che cerca di andare a prendere la pariglia con il cavallo di testa 45 scarsi, passaggio ai 600, Solomillo che giunge al sediolo di Snow Crystal Lanz sempre Samsara alla corda, quindi gli altri con la terza pariglia per il favorito Sole degli Ulivi si va così agli 800 di gara in 1-1-3 da parte del leader quando siamo ora di fronte posizioni che per ora non mutano, si scopre Sole degli Ulivi che a questo punto cerca di forzare i tempi preso in anticipo anche la Schubertor, 1-16-9 il passaggio al chilometro la squalifica per Steffi di Costa con sempre al comando Snow Crystal Lanz quando siamo all'imbocco la piegata conclusiva, Solomillo all'esterno, Sole degli Ulivi che li attiro Samsara che va per linee interne, metà della piegata con la terza posizione alla corda per Schubertor si va in addirittura d'arrivo con Snow Crystal Lanz al comando, ci prova ancora Solomillo ci prova Sole degli Ulivi per linee esterne, poi Samsara alla corda, ultimi metri con Solomillo che attacca Ciso, sbaglia ancora Sole degli Ulivi, si fa vedere Sonny Hans, nel finale Sonny Hans che viene a concludere e sopravanza probabilmente Snow Crystal Lanz, 1-2-0-2 il tempo totale 2-2-2 per quel che riguarda il vincitore che dovrebbe essere Sonny Hans con Glauco Ciconiani andiamo a rivedere le immagini con Snow Crystal Lanz che cerca di allungarsi allungarsi Solomillo che ha al suo esterno, sbaglia intanto Sole degli Ulivi e allora si protende a largo di tutti Sonny Hans che nel finale riesce a sopravanza i due all'interno e a concludere da vincitore. Numero 4 al primo posto Sonny Hans per Glauco Ciconiani, il secondo posto invece per quello che era stato battistato Snow Crystal Lanz che ha la meglio ancora su Solomillo quindi recita 4, 8, 6 l'ordine di arrivo provvisorio di questa terza corsa dalle Capannelle